E ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo di nuovo su Minecraft Ita Sesta Stagione e sto pre-registrando il video, lo so, sono le 10.46, ho appena pubblicato una foto su Instagram chiedendovi delle domande per un vlog che registrerò dopo questo video e che vi volevo dire che non so se vi è piaciuta o meno sta cosa, io non lo posso sapere infrangerai tante leggi della fisica dello spazio-tempo e tutto il resto ergo ho però continuato perché mi piaceva e secondo me è una figata sto cosa WTF, perché? Perché ti sei buttato? Ma così a caso, è carino se sei uccito in i mob Allora, guardate un po', secondo me, a parte che dobbiamo fare il ponte, ho collegato sta parte ho fatto le stradine, ho fatto una strada qua, ne ho che va, gira e va di qua poi si può saltare di qua, hop, c'è una strada che continua e va qui, si ricongiunge a questa ho portato avanti questo che è collegato al laboratorio, secondo me viene figo lo stiamo costruendo piano, è una cosa strana, è particolare, è incredibilmente strana sta cosa ma potrebbe venire figa, secondo me se ci mettiamo di impegno viene qualcosa che è allucinogena ma veramente allucinogena, ok? Secondo me viene figa, datemi tempo ancora a qualche... se vi è piaciuto ok, va bene, sono contento se non vi sta piacendo, datemi ancora un po' di tempo la devo sistemare, la devo fare bene, è soltanto un inizio, la stiamo provando e testando ma dobbiamo fare cose particolari su Minecraft perché ho fatto tutto, in sei stagioni ho fatto tutto proviamo a fare qualcosa di diverso i ponti servono, i ponti servono necessari tipo qui in ponte, di là un altro ponte il problema è che come cazzo fai a fare un ponte che è largo tre blocchi? non si può fare, viene male, viene strano e... oddio non lo so, devo essere sincero, ancora non ci ho pensato a sti ponti, come farli, come non farli, non lo so perché cazzo c'è la porta aperta? chi è quel mona che sbatte le porte? ok, no, mi manca, cioè, ok, parliamone, come fare, come non fare, perché farlo non lo so, non lo so comunque, oggi che cosa andiamo a fare? oddio, di cose ne abbiamo fatte veramente, veramente tantissime, di tutti i colori cioè, sto mondo l'abbiamo riempito e devo essere sincero no, non sto dicendo che non voglio cambiare stagione perché spensa subito male, non esiste ancora eh, il punto è cose strane da fare, ok eh, wall l'abbiamo fatto, dovremmo finire quel posto lì, infatti potremmo lavorare su quello potrebbe essere una bella idea oppure, se pensassimo, no, perché dato l'oro, ok ce n'è lì, ce n'è lì sopra, le isolette volanti, ok oro lì, serve altro oro, serve tanto oro, devo farmare oro, ok come poterla vedere, adesso pensavo, un'unica cosa, andare a fare le torri le due torri, le due torri, oggi facciamo le due torri le due torri, guardate un po' che cosa vi sta per creare il vostro caro free e ciao a tutti amici, io sono il vostro caro free e oggi sono, no, un saluto a Dexter ehm, volevo, no, sto scherzando, ok le due torri, le due semi torri, in verità vediamo che cazzo sta roba che mi dà fastidio che cosa fare e come farlo ok, le due torri mmm, se mi cerchio, uno, due, tre uno, due mi sta sul culo sta roba mmm, devi fare più uno, tac tac, tac ah, eh, aspetta, no, perché, eccolo qua tu ci sei, sei uno zombie con l'armatura ok, da dove siamo partiti? siamo partiti uno più in basso, quindi uno più in basso è qui, sì, mi fio uno, due, tre, muori male mi stai sul culo oh, mi ha droppato anche l'elmetto fire protection, bella merda sì, caro, proprio una merda mmm, 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 non si può defar a parte perché è largo, è tre ok, no no, così non mi piace così non mi piace per il semplice fatto che allora ma che cazzo, non so vediamo un po', tac, due due, anche di qua due così poi ne fai due così e poi ce n'hai uno che cazzo dice questo uno qui è piccola no, è troppo piccola così, non va bene non va bene collegata così la allarghiamo la dobbiamo necessariamente allargare farla così sì, la allargheremo la facciamo partire da là ok, poi magari le rifiniture come al solito le lasciamo tutte per una seconda parte tre e significa che anche qui sono tre poi sono due qui tac poi sono due di qua qui diciamo due due e chiudiamo a tre eccola qua perfectly così mi piace così mi convince tac due tac così la butti dentro di qua tre due due tre ok, sì si può fare va bene come una delle due torri mi piace altra torre ecco qua forse un po' 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 perché perché cazzo siamo più alti perché siamo più alti ma madonna così facciamo tac e ne butti dentro fai la uno, due, tre un due ok poi c'hai due in questa direzione che bene o male si può anche tenere così attenendoci al testo sì non servono questi servono questi così e ne metti due anche di qua stessa cosa poi ne vai a fare oh e qua devi partire da da sotto però qui dobbiamo chiudere per forza uno, due, tre necessariamente partire da sotto uno, due, tac devi riportare questo più alto ce ne hai poi una in questa direzione questo lo dobbiamo togliere necessariamente perché ci dà abbastanza fastidio ed è la se il secondo pezzo è qui poi ce ne hai uno, due, tre di qua perfetto tac oddio sì anche secondo me così può venire figo ma sapete che può venire figo? sì che può venire figo tac tac appareggiamo tutti allo stesso livello già questa già è alta di torre no porca miseria siamo partiti bassi e guardate quanto è alta però vediamo di massima ci sta come cosa no? ci può stare sì sì che ci può stare voglia se ci può stare madonna che figata allora appareggiamo anche un'altra cosa facciamo un'entrata qua che possa risultare comoda ok così è comodo significa che anche qui dovremo farla un'entrata simile una cosa del genere facendo una roba del genere e qui dovremo togliere tutta sta terra e mettere gli stone brick faremo tutto ovviamente il pavimento di stone brick ok questo l'abbiamo pareggiato però il punto è non possiamo farlo di stone brick perché dopo è tutto fottutamente uguale e non ci piace questa cosa qua tutto fottutamente uguale non è bello quanti sono? 1, 2, 3 questi quanti sono? 1, 2 e 3 perfetto centro ok quanto tanto questo poi non si vedrà quindi questo non si vede possiamo tranquillamente recuperarle come cose e anche questi eh ci mancano ci servono necessariamente prendiamoli bene abbiamo recuperato 8 pezzi che potevano essere molto molto utili a nostra causa ci metteremo degli stone brick anche se si ah per cazzo ci frega ok perfetto bene ok facciamo la stessa cosa di qua ora dovremo mettere della terra qui della terra qui e poi bene o male già ci siamo siamo al piano perché guardate un po' 1, 2 questi sono 3 questi sono 3 tac fai una cosa del genere qui ci metti il pavimento qui lo voglio fare tranquillamente non ci serve questo nemmeno e abbiamo recuperato anche qui belle cose ci metto la terra che tanto non si deve vedere che ci frega se una cosa non si vede non è importante in minecraft se una cosa non si vede non è importante almeno che non sia un meccanismo ok e va bene questa è quanto ci leviamo anche questi e le due torri adesso andranno tirate su e ergia ergia come cazzo si dice vabbè tiriamo su le due torri forza facciamolo ok balza è troppo palloso taglio ora mi son preso un paio di stack di polish on the site per fare il pavimento qua so che non cambia tanto aspettate lo so lo so non cambia tanto ma cambia quanto basta secondo me e quindi potremmo fare una cosa del genere perché ci sta bene ci sta bene calcolate che è ancora grezzo il tutto vanno fatte rifiniture vanno fatte tante rifiniture quindi secondo me guardate che ci sta bene ci sta un botto bene fidatevi del fidatevi di me ok facciamolo tac tac leviamo tutta sta roba leviamo questo hop 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 leviamo anche questi tre uno due tre uno due tre tac li riprendiamo c'è avanzato 34 pezzi il che va più che bene secondo me può andare abbastanza bene ok abbiamo una base abbiamo una buona base su cui lavorare e partire dobbiamo ovviamente fare rifiniture di tutti i tipi aggiungeremo oro per carità questo è troppo c'è il passaggio qui fa schifo dobbiamo creare qualcosa qualcosa che sia carino e vedibile ok non si può vedere capite è bruttissimo dobbiamo fare qualcosa sto adattando lo sto adattando ok ci può stare volevo fare un'ultima modifica anche di qua per rendere le torri un po' più fattibili un po' più abbordabili a quello che è poi la conformità della nostra costruzione ok ovviamente scaviamo anche qua tac li mettiamo non mi basteranno mai lo so così facciamo però tac tac questo non si vede per niente passando dietro ovviamente non si rivede non si vede un cazzo buono molto molto bene ecco questo gioco ovviamente a nostro favore perché risparmiamo materiali blocchi interessanti e guardato già un po' quanto è cambiata l'idea di torre ok è cambiata abbastanza è molto più amalgamata adesso le andremo però necessariamente a dividere perché non possono restare attaccate quindi una torre andrà per un verso l'attatore per l'altro e la struttura centrale quindi ci saranno ovviamente delle parti dei buchi all'interno della struttura ma sarà ovviamente una cosa voluta che porteremo avanti per diverso tempo qua dentro lo dobbiamo cambiare però perché si vede tac tac basta abbiamo finito quanti ne dobbiamo togliere hop questo 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 dobbiamo togliere tutto ma mi fa piacere molto molto bene divertente come cosa simpatica questi non li dobbiamo togliere nessuno ok va bene ci può stare ragazzi spero che il video vi sia piaciuto abbiamo fatto abbastanza oggi abbiamo tirato su queste parti di torri le ritireremo su ovviamente anche come cazzo faccio farlo andare una torre a destra ci devo pensare devo pensare alla struttura va bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto in tutti i casi ringrazio tantissimo per la visione di lasciare mi piace se il video vi è piaciuto iscrivvi al canale se avete fatto di condividere il video su facebook mi raccomando passate in tutti i link in descrizione facebook instagram e telegram diciamo come al solito al prossimo video ciao a tutti ragazzi